Avellino Ciro, il sigillo di Uriel. Un numero infinito di stelle brilla nel buio dell'universo, accompagnate in questo viaggio senza fine da miliardi di pianeti e lune di tutte le dimensioni. Questi granelli insignificanti si perdono nello spazio infinito, come minuscole gocce d'acqua in un oceano. In alcuni di questi mondi si sviluppano forme di vita che raggiungono, nei casi più fortunati, un livello di evoluzione inimmaginabile. Ara è uno di questi, un mondo meraviglioso e incontaminato. I suoi mari immensi e i vasti laghi dalle acque limpide eppure riflettono come specchi di cristallo blu la luce calda del suo astro dorato e le infinite stelle del firmamento. Innumerevoli forme di vita, alcune incredibili, popolano questo mondo. Nella regione più incantevole e mite di Ara vive, in perfetta armonia con la natura, il fiero e civilizzato popolo Lot. Il loro vasto territorio è diviso a nord da una maestosa catena montuosa, adornata da immensi secolari ghiacciai, dai quali sgorgano piccoli ruscelli dalle acque gelide e cristalline. Grazie. Grazie.